Dopo due anni è finita l'epidemia di ebola in Guinea, il paese dell'Africa centro-occidentale più di altri colpito da questo pericoloso virus, che ha causato qui almeno 2500 morti. A dare l'annuncio ufficiale è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di ebola nella Repubblica di Guinea è finita, ha dichiarato Mohamed Belosine, direttore dell'OMS per il paese. L'ultima paziente dichiarata ufficialmente guarita a novembre e considerata l'ultimo caso nel paese è stata Nubia, una bambina di poche settimane nata con il virus, curata e tenuta ricoverata per precauzione a lungo, ma sopravvissuta, al contrario di sua madre. Da allora si sono dovuti attendere 42 giorni senza nessun nuovo caso di contagio, che corrispondono al periodo di incubazione, per avere la certezza di aver debellato del tutto il virus. Soddisfatto il dottor Sakoba Keita, coordinatore nazionale della lotta contro il virus ebola. Ma in Guinea, durante i miei 36 anni di servizio, abbiamo avuto bisogno di due anni per sconfiggere un'epidemia, ha detto. E questa è senza precedenti, ha messo a dura prova il nostro paese, il nostro sistema sanitario e la nostra società. Ma abbiamo vinto. In tutto il virus ha causato la morte di oltre 11.000 persone, tra Guinea, Liberia e Sierra Leone, su quasi 29.000 casi accertati. Prima della Guinea, a settembre, la Liberia era stata dichiarata ufficialmente libera dal virus e poche settimane dopo era toccato alla Sierra Leone.